Aiuto, aiuto, ci stanno attaccando, beccatevi questi stupidi zombie Ciao a tutti ragazzi, sono Bellafaccia e bentornati in un nuovo fantastico video Siamo qui nella nostra super base anti zombie Perché il video vi è piaciuto così tanto che guardate, eccoci qua, proprio così Ma non basta, ma non basta, gli zombie stanno continuando ad arrivare Quindi avrò bisogno di tutto il tuo aiuto, lascia un bel mi piace Ah, e se sei nuovo, iscriviti e attiva la campanellina delle notifiche Stanno arrivando, stanno arrivando, devo ricaricare, devo ricaricare Maledetti zombie, guardate quello, è stato colpito da un fulmine Ecco perché è così brillante Ok, bando alle sanse, dobbiamo continuare a costruire il tycoon Perché ve l'avevo promesso, se il video vi sarebbe piaciuto, eccoci qua Ok, allora, muri esterni 10k, devo fare attenzione, vediamo Io farei dei muri qua, vediamo, muri, finestre Ok, creiamo un'altra torre incredibile Perché ovviamente i miei uomini mi difendono, vedete? Ecco qua le mie guardie del corpo Chi cavolo è quello? Oh mio dio, è gigante Executioner Oh mamma mia, sparate, sparate uomini, forza! Devo fare attenzione ragazzi Perché quando scadrà il tempo arriverà un'ondata super potente Allora, vediamo intanto i miei scienziati Se lavorano bene, allora qua ho fatto tutto Perfetto, stanno producendo Fantastico, continuate così Scienziati pazzi Si diventerò anche io pazzo Oh mamma Allora, scienziato passo, passo Ok, equipaggiamento Una rinascita Allora, vediamo Io ho bisogno di un'armatura molto più potente Equipaggiamo Sì, fantastico Questo zubbotto antiproiettile mi difenderà sicuramente Vediamo un po' quale arma posso scegliere Direi una bella mitraglietta È quello che fa al caso mio Ma prendiamole tutte, bella faccia Prendiamole tutte Ok, M16, proprio così Perché contro un'orda di zombie bisogna essere ben equipaggiati Stanno arrivando? Li ho sentiti, stanno arrivando Dove sono? Dove sono? Dove sono? Li avete visti? Qualcuno li ha visti? È arrivata la notte E di notte gli zombie diventano molto ma molto più potenti Allora, muro Secondo piano Luci Scala Andiamo di sopra Andiamo di sopra Forse c'è la luna piena Stanno arrivando Attenzione Questi non sono nulla Appena, ragazzi Il timer finirà Sarà finita per noi, eh Io intanto continuo a costruire quest'incredibile torre Vediamo Allora, pavimento Scala Non abbiamo più soldi, ragazzi Arrivano Arrivano Chi cavolo è quello? Ma beccati questo Maledetto Aveva una TNT in mano Avete visto? Aveva una TNT in mano Beccatevi questi stupidi zombie Beccati anche questo Ah sì, eh Allora andiamo di mitraglietta Prrrr Ah, aiuto Un fantasma Cavolazzo Un fantasma, ragazzi Addirittura i fantasmi Mi attaccano Eccati questo Ok, uomini Finite il lavoro al posto mio Vediamo Io direi che è arrivato il momento Di prendere un pochettino di soldi Vediamo Quanto costano Vediamo 25 500k di denaro Quanto mi costano Eh Veramente tantissimo, eh Lo faccio solo perché il video vi è piaciuto tantissimo Sì, abbiamo shoppato una marea di soldi, ragazzi Siamo super ricchi Sentite come sparano Ok Allora Andiamo di sopra Io devo arrivare a fare la rinascita Vediamo un pochettino Che possiamo fare Il laboratorio Era tutto ok Poi Vediamo L'armeria Ecco le armi più forti Il cecchino, ragazzi Non l'avevo visto Ok L'AVP Il FAMAS È famoso il FAMAS, eh No, non era divertente Ok, prendiamo questo Prendiamo anche questo Sicuramente quegli zombie non si avvicineranno con questo equipaggiamento Oh, oh, oh Uomini Attenzione, eh Ok Proviamo ad usare il cecchino da qua, ragazzi Dove sono gli zombie? Ecco, lo vedo È là Lo vedo Baccati questo Preso Mamma mia Sono troppo potente E addirittura se entro qua dentro li distruggo Vabbè, dai Sono troppo forte Allora Continuiamo Vediamo Un'armatura più potente Un'altra armatura E un'altra ancora Cioè, guardate che belle Ok, c'è Questa è bellissima Ma vogliamo mettere questa tutta scura? Io direi questa che dà 60 di vite in più Tenente mortadella Sto arrivando Allora, vediamo Poi Cosa possiamo upgradeare Della nostra super base Andiamo di sopra No, non farmi andare di sotto Di sopra No Sono sceso, cavolo Allora, io direi Di mettere muri esterni Uh, adesso sì Che con i muri esterni Siete spacciati Stupidi zombini Alziamo i muri esterni Muri esterni ancora Sì Cos'è sta cosa? Una rinascita per gli scudi Generatore di scudi Ok, allora Vediamo quanto manca Ok, 23 secondi Ok Muri del cancello Sì Dobbiamo creare un cancello ragazzi Dobbiamo assolutamente creare il cancello Allora, vediamo qua Che possiamo fare Ok, muri Muri ancora È tutto un muro È tutto un muro Ok, finestre Tetto Porta del garage Luci Jeep Sì Sì ragazzi Possiamo fare la Jeep C'è la Jeep Se l'abbiamo E qua? Mamma mia Oh, non ci credo Ma quello è bellissimo Ok Direi di andare a fare un giretto Con la nostra Jeep Allora, scala Di sopra si può fare qualcos'altro Andiamo a fare un giretto Certo che dovrei aprire Prima la porta, eh Magari apriamo la porta del garage Bella pazza Andiamo in riconoscione Non riesco nemmeno più a usare la S ragazzi Sono troppo esaltato Andiamo in riconizio Aiuto Aiuto Sono incastrato Sono incastrato Ma perché dovevate mettere lo shop Così vicino al mio garage Oh mio Dio Non si passa Ok, fantastico Allora, vediamo un pochettino Onda Serbatoio Ma che cavolo vuol dire? Ok Eccoli Arrivano Fuoco Li posso investire? Sì Li posso anche investire Ho investito degli zombie Ok, ritro marcia Me la faccia Sono lì Sono lì Maledetti Non avrete ma... Ah, mi tirano i sassi Ah, mi tirano i sassi Questi maledetti Oh mio Dio Ma è troppo divertente Questo tycoon ragazzi Baccatevi questo Stupidi zombie Ah, li ho investiti Oh mio Dio Non avete il cervello Non avete abbastanza cervello Stupidi zombie Guardate gli altri ragazzi Gli altri giocatori Sono messi super bene Se guardate questo Amico Amico vuoi salire? Amico 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 c'è posto se vuoi C'è posto se vuoi entrare Mi sa che non ha voglia Toglietevi dalle scatole Eccone uno in meno Oh, sono andando a casa mia Sono andando a casa mia No Venite qua Pam, pam Spam Mamma mia Distrutti Ah, aiuto Ha una clava Uomo delle caverne Ma beccati questo Uh, bello Ragazzi una molotov Mi hanno regalato Eh, e sapete che cosa faccio adesso? Gliela butto Ah, no, no Ho letteralmente sbagliato Sto andando a fuoco Qualcuno mi Mi spenga Allora vediamo Cancello Quindi ck Sì E adesso zombie Non potete più entrare Non possono più entrare Rompono il cancello Non ci credo Ragazzi Ma mi rompono il cancello Questi Cavolaccio Allora Vediamo Torre Finiamo la nostra torre Perché questi rompono il cancello Luci Poi vediamo Qua sopra È arrivato il momento Chi è? Chi è? Sento qualcosa Sta arrivando qualcuno Chi è? Sento qualcosa Cos'è? È l'aereo che ha lasciato degli approvvigionamenti là Ci sono degli approvvigionamenti raga Allora Intanto Mettiamo a cuccia Questi zombie Che non devono entrare a casa mia Avete capito che non dovete entrare a casa mia Perché ormai questa È la base più sicura di tutto Roblox Vieni qui Vieni qui Il cancello Ma me lo stanno massacrando ragazzi Me lo stanno massacrando Fatemi entrare È il vostro capo È il vostro capo Chiudere Chiudere però adesso Ok Devo muovermi Allora Andiamo di su Doppia velocità Ok Oh Doppia velocità Grande Muri Ok Altri muri Muri ancora Finestre Muri È tutto un muro È tutto un muro Tetto Ok Le luci Ok ragazzi Torretta Ci siamo Entriamo dentro la torretta Massacrati Questi stupidi zombie Quelli si sono addirittura divisi Beccatevi Oh ma quanti sono Ragazzi sono tantissimi Sono veramente tanti Sono tanti Sono qua sotto Sono qua sotto Allora facciamo un altro muro Un altro muro Muro Finestre Mi servono Altri che sparano Me ne servono altri ragazzi Ok Attacco aereo Oh mamma mia Allora apriamo finestra ovviamente Perché io vorrei vedere Attacco aereo Oh Se vabbè lancia attacco aereo 5000 ragazzi Mettiamo le luci Se vabbè L'attacco aereo 5000 Io direi qua di lasciare aperto Perché altrimenti non si vede niente Poi vediamo Blocchi Ok È un vero castello Ma guardate la mia jeep Poverina L'ho abbandonata lì Allora Che possiamo fare Pronto Abbiamo un regalo Riscatta Sì Soldi gratis ragazzi Vediamo Qua c'è altra roba da fare Scienziato 3k scienziato Ok Altri scienziati pazzi Che studiano gli zombie Ok muro Muro Scienziato Finestra Fantastico Un altro laboratorio Stiamo creando ragazzi Ok Fantastico Questi sono a posto Fantastico Mi stanno creando Altri soldini Eh certo Mi servono Ok scala Cioè mi fai fare Altri scienziati Ah no Qua è il muro È il muro Per andare sopra Nel muro È il muro Il muro per le muro Non era divertente Allora qua mi fa vedere Tutti gli zombie Che ho ucciso ragazzi Guardate 3 uccisioni 5 14 E ce ne sono tantissimi Che ancora Non ho mai visto Cioè guardate questo Guardate lo zombie Dottore pazzo Ce ne sono tantissimi Che ancora Non abbiamo nemmeno Mai visto Quindi Direi di muoverci Direi di muoverci A finire tutto Il nostro tycoon Possiamo prendere Anche un altro regalo È certo Che lo prendiamo Gratuitamente Allora Andiamo di sopra Perché non vorrei dire Ma secondo me Mi fanno avere un aereo Allora 5 rinascite Camion Sì Camion Che è sto coso Che è il cararmato Cos'è Oh mio dio È la jeep Che spara Ma questa è bellissima Questa è veramente bella Ragazzi Allora Vediamo Di sopra Ok Che è sto coso Ok Elicottero Non ci credo No L'elicottero Una rinascita Ci vuole una rinascita Per l'elicottero Ok Direi di andare un pochettino in giro Andiamo in giro Raga Andiamo in giro Hanno distrutto tutto Questi maledetti Eccatevi Eccatevi questo Vampirello Oh quella è una bomba Ok Andiamo dagli altri Amici Amici Qualcuno che vuole salire qua A sparare Vieni 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 amico Amico Sali Sali amico No L'hanno triturato Gli zombie ragazzi L'hanno triturato No Maledetti zombie Toglietevi Ho appena pulito La mia macchina Toglietevi Ecco qua Amico Vuoi salire? Vuoi salire? Dove cavolo è quello ragazzi? Gli zombie mi stanno distruggendo la macchina Sta andando in fiamme Sta andando in fiamme Vi togliete Dalla mia macchina Non toccatela Non potete toccare Il mio carro armato Jeep Dov'è? Dov'è? Ok questo va bene ragazzi Non vuole salire Sali Sali amico Sali dai Sali Sali Su Su Sali dentro Sali Non mi sparare Non mi sparare Sali Perché mi spara? Ma perché mi stai sparando? Olia Kimbo Raga Ho due pistole Forza Entra qua Entra qua Ma perché? Ma perché? Cos'è una scimmia? Non ci credo La bambola scimmia La bambola scimmia Oh mio dio Vanno tutti nella bambola scimmia Non ci credo Attenzione che esplode adesso No vabbè Ho anche il C4 Te lo tiro nella testa Così impari A non voler salire Mamma mia Io me ne vado Io me ne vado Questo Perché questo qui Non è stato molto amichevole ragazzi Me ne torno a casa mia Che è meglio Stanno arrivando troppi zombie Stanno arrivando veramente tantissimi zombie E lì il mio cancello è messo veramente male Devo metterlo a posto Ok Siamo tornati No 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 Troppi zombie Oh 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 che è? Troppi zombie raga Troppi zombie Via Toglietevi Maledetti Dov'è? 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 L'arma L'arma più forte Via Devo ricaricare No Attenzione Proteggetemi Proteggete il capo della base Mamma mia Sono riuscite ad entrare Sono riuscite ad entrare Si può mettere a posto il cancello Via Togliti Aiuto 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 Ok 500 Ripariamolo Per 500 Ripariamo il cancello Mamma mia Questi zombie sono potentissimi Ok Andiamo di sopra Perché secondo me possiamo fare qualcosa di carino Eh se riesco a salire Allora vediamo Muri Ok Facciamo muri Muri Altri muri Le finestre Il tetto La scala Il kit medico finalmente Abbiamo il kit medico ragazzi Così finalmente posso curarmi E sentite quanto stanno sparando Ma ci sono un sacco di zombie là fuori Allora Le luci Sto esaurendo anche i soldi La porta Ok Il lancia granate raga Raga abbiamo il lancia granate Guardate guardate che roba Devo assolutamente provarlo Andiamo di sopra Ok Siete pronti i zombini Adesso mi devo mettere in un buon punto per usarlo eh Sono pronto Per il lancia granate Granata Boom Ricarico Ricarico Granata Boom Ok non gli faccio praticamente nulla quello Ah sono cascato Sono cascato Granata Oh mio dio Aiuto Aiuto Aprite Aprite ragazzi C'è la scimmia Se la scimmia non me la fa prendere Però aiuto Aiuto Cavolo sono troppi questi zombie Ma è difficilissima questa modalità Peccati questo Testina di banana Con chi pensi di avere a che fare Raga Raga Aiuto Aiutatemi I miei uomini potrebbero aiutarmi Chiudo il cancello Lo riparo Però datemi una mano Datemi una mano Raga Raga Sono troppi Raga Raga Sono troppi Una mano Una mano Una mano Una mano Una mano Distruggeteli Ok chiudo il cancello Mi raccomando copritemi Allora vediamo un po' Le frecce mi indicano qua Devo cercare di finire il tycoon ragazzi Devo finirlo tutto Allora vediamo Una freccia E qua Ok cicatrice Che è No vabbè ragazzi Bellissimo Ok mg Poi vediamo M1 Questo che è Uh il Thompson Eh ma non ho più spazio Cavolaccio Non ho Non ho posto Posso cambiare Non ho più posto per queste armi Allora vediamo un pochettino Devo andare di sopra Devo andare di sopra Raga Allora muri Poi Armatura Ok 70 hp Tanta roba Questa è ancora più forte Sto per finire tutti i soldi Sto per finire tutti i soldi Allora qui mi segna sti due Lump No ragazzi Non ho più soldi Non ho più soldi Cavolo Non ho più soldi Gli ho finiti Ok doppia velocità Devo tornare di sotto Guardate da qua che riesco a vedere tutto È bellissimo Bam Mamma mia distrutto Da qui li riesco a vedere benissimo E sono super protetto Sono entrati qua dentro No 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 Sono entrati Raga sono entrati Sono qua sotto Sono Uh sono esplosi Questi esplodono Hanno le bombe Hanno le bombe Mi stanno distruggendo tutta la base Non si posso credere Muri Muri raga muri 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 Bisogna rifare il cancello Cavolo Ok 75k Abbiamo quasi 100k Vediamo se riusciamo a finire Questo tycoon C'è difficilissimo Finirlo ragazzi C'è veramente Tantissima roba da fare Allora vediamo Qua 20 Bello l'rpg Raga ce l'abbiamo E l'armatura Più 80 Abbiamo il bazooka Oh mio dio Lo devo usare assolutamente Vediamo Abbiamo finito il tycoon Ancora c'è da fare Ok armatura Oh bella questa Tutta mimetica Ok 20k Per l'altra armatura No vabbè Ma io voglio usare questo Voglio vedere quanto è potente Zombini belli Ho fatto esplodere tutto Raga ho fatto esplodere tutto Ok sono entrati Sto arrivando Siete pronti Ah questo esplode Aiuto Oh mio dio Ricarico Ricarico Esplosione Faccio esplodere La mia jeep Ok non esplode la mia jeep Ovviamente Ok Addio È stato bello conoscerti Oh Ha lagato Ha lagato Così non va Così non va Ok riproviamoci 3 2 1 Bomba Ma gli ha disintegrati Raga Gli ha disintegrati Guardate ma è troppo divertente È troppo divertente Col bazooka Bam Aiuto No dove è andato È andato in aria Oh mio dio È troppo divertente Ma beccatevi questo Arriva la bomba Boom Ma dove va Ma va in aria Ma è storto Ok Finiamo tutto Vediamo Armatura agosto Ah no non è un'armatura No agosto Ma non è agosto Ma non si chiama agosto È un'arma Ok L'armatura 100 hp Questa Ma ho la pancia Ragazzi Ho troppa pancia Cavolaccio Ho troppa pancia Non mi si vede Non mi si vede L'armatura Ok Direi di andare a recuperare Gli approvvigionamenti Adesso Vediamo Hanno distrutto completamente Il nostro mezzo di trasporto Aiuto 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 Ah No 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 Via via Dobbiamo andare via Dobbiamo andare via C'hanno zombie in mezzo ai piedi Dobbiamo andare a recuperare Gli approvvigionamenti Andiamo Investiamo un po' di zombie Ah Preso Il fantasma Ok piano Piano Devo ancora prendere la patente Devo prendere Ok là Si segna là Ok proviamo È un fuoristrada sto coso No No lo sapevo Lo sapevo Andiamo da questa parte Con calma È lassù È lassù Lo vedo È lassù Corri Corri per la faccia Che è sto coso Lo devo distruggere Wow Che Che cos'è raga Cos'è raccogli Barile Cos'è Barile di cura Proviamo a prenderlo Vediamo L'ho preso Oh mio dio Porta il barile alla tua base No Aiuto Aiuto Gli zombie Ma questo gioco è troppo bello ragazzi Aiuto Mi sta inseguendo Gli zombie Forse con questi barili Riusciamo a finire il gioco Guardate gli zombie Sono arrabbiatissimi Ragazzi Gli zombie Sono arrabbiatissimi Guardate là sopra Ce ne sono tantissimi Ho lasciato La mia ziplà Cavolo Ho anche un premio Da riscuotere È certo che Sì Velocità doppia Corri 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 Bella faccia Corri 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 Via Che stanno arrivando Corri via Corri via Questo sta arrivando Velocissimo Aiutatemi Guardie Guardie Sparate Guardie È il vostro capitano Che ve lo ordina Dovete Dovete aiutarmi Dovete sparare Fuoco Guardie 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 Fuoco Fuoco Ho detto fuoco Ho detto fuoco Ok sono andati via Instant kill Ok e quindi Ok riporta la tua base Adesso Ce l'ho Ah devo portarlo lì raga Devo portarlo al laboratorio Ok ce l'ho Ce l'ho Ce l'abbiamo Ok Sì Quanti soldi Che mi ha dato Trovi barili Ok mappi Riportali indietro Fantastico Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Ancora abbiamo Tantissima roba Da fare qua Spero Che Non lo so Spero che abbiate Trovate un posto sicuro Fate attenzione agli zombie E se volete un altro episodio Fatemelo sapere Io adesso devo andarli A distruggere Da me è tutto Ciao